Regione Toscana, il Consiglio regionale. In Consiglio regionale si torna a discutere di aeroporti e l'occasione è l'approvazione di una mozione votata all'unanimità con primo firmatario Andrea Pieroni del Partito Democratico, collegata a un'interrogazione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Si chiede al Governo di inserire nel Piano Nazionale Aeroporti Pisa per gli scali strategici, attualmente escluso. Nell'impostazione portata avanti da Regione Toscana in questi anni, Pisa e Firenze sono stati considerati come scali abbinati e lo scalo di Pisa prevede una potenzialità di mercato che al 2035 oscilla tra i 7 milioni e mezzo e gli 8 milioni e mezzo di passeggeri, di fatto più del doppio di quelli di Firenze, che in questo momento è stato inserito nel Piano. Inoltre Pisa è sede di un cargo village che nel 2019 ha registrato un traffico di 15.000 tonnellate di merci. La mozione che ha visto la collaborazione e il dibattito tra maggioranza e opposizione chiede che nel Piano Nazionale si consideri in Toscana un sistema aeroportuale integrato costituito dagli scali di Pisa e Firenze con obiettivi coordinati e non competitivi. È stata una discussione positiva che ha dato un risultato significativo, una mozione approvata all'unanimità che chiede al Presidente della Regione di presentare entro il 21 novembre una specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, redatta da ENAC, laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, laddove non si preveda che per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici. Così è nel Piano Nazionale degli Aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa, nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lasciano cose non dette o zone grigie. Quindi chiediamo al Presidente Gianni di presentare una osservazione nei termini prescritti affinché si chieda al Ministero e alla Direzione degli Aeroporti che venga ripristinata la previsione che gli aeroporti strategici della Toscana siano Firenze e Pisa, perché proprio nel 2015 è stata fatta la scelta della fusione delle società, è stato individuato un gestore unico e questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale. Questo fa sì che i due scali possano svilupparsi in maniera complementare, in maniera integrata, senza farsi inutilmente concorrenza, per far crescere la Toscana. Insomma, la Toscana per volare ha bisogno di due ali. Uno è l'aeroporto Galilei di Pisa, l'altro è l'aeroporto di Firenze. Senza una di queste ali il rischio è che la Toscana rimanga a terra. Il Piano Nazionale degli Aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al Piano Nazionale degli Aeroporti, che riporti Pisa a fianco di Firenze, perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti, soltanto in sinergia, insieme, sono strategici per la Toscana. Non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti e di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice. Ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto, dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del Piano Aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico, nonostante le promesse di molti anni, mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad ENAC per questo. E tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal Presidente Gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il Piano, solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Ecco, noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal Presidente di una Giunta che a distanza di anni, nonostante governi, nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è Presidente, non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze e non dichiari finalmente quello che è chiaro a tutti, che Pisa verrà lentamente declassato e lasciato morire mentre invece sarà prevalente l'aeroporto di Firenze sul quale c'è la volontà pervicace di arrivare alla costruzione di un nuovo aeroporto perché è falso anche parlare di una nuova pista quando sappiamo bene che ci sarà una nuova pista, un nuovo terminal, una nuova viabilità proprio perché sarà cambiata l'inclinazione ecco, la mancanza di sincerità da parte del Presidente è la cosa più grave che è emersa in risposta a questa interrogazione. Se è vero, come ci stanno dicendo ormai da anni, che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa è inutile presentare un masterplan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire noi vorremmo, vogliamo, che entro la fine dell'anno venga presentato un cronoprogramma puntuale sull'esecuzione dei lavori per l'aeroporto del Galileo Galilei di Pisa e su questo non siamo intenzionati a retrocedere La nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme in maniera congiunta Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico si è concepite nel contesto europeo serve rafforzare Firenze serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale ogni volta che parliamo di aeroporti in consiglio regionale tende a riaffermarsi sempre questa sorta di campanilismo che vede Firenze e Pisa quasi contrapposte io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato io credo che su questo non si debba più tornare anzi credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di ENAC ma anche da parte del nuovo governo un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze un aeroporto che stia dentro di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato io credo che a questo punto il dibattito politico sia ormai chiaro servono semplicemente azioni concrete anche da parte di Toscana Aeroporti Sì, come al solito tanta discussione ma poi abbiamo votato tutti lo stesso ordine del giorno mi sembra solo un partito non l'ha votato ma la grandissima maggioranza del Consiglio si è riconosciuta nel gioco di squadra con cui dobbiamo sostenere l'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Pisa la costruzione dell'aerostazione nell'aeroporto di Pisa una nuova pista che dà più garanzia di sicurezza e compatibilità ambientale per l'aeroporto di Peretola il problema è stato l'interpretazione che taluni hanno dato che poi è girata sulla stampa sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'Enac a livello nazionale ma in realtà se guardiamo bene quel piano vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa come quello di Firenze e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano all'aeroporto è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento comunque nel documento che abbiamo approvato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al Ministro Salvini di inserire fra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze e Peretola sia quello di Pisa Galilei giunge al termine il Consiglio del Coricom Toscana presieduto dal valdarnese Enzo Brogi e in conferenza stampa si stila un bilancio delle attività e del Coricom oggi sono stati cinque anni dal 2017 al 2022 con premi alla buona comunicazione vigilanza su parcondicio patentino digitale nelle scuole e risoluzione delle controversie la chiusura della cosiddetta legislatura del Comitato Regionale per la Comunicazione è stata anche l'occasione per intitolare la sala dell'accoglienza ad Omar Calabrese primo Presidente del Coricom intanto nell'ultima seduta del Consiglio regionale sono stati eletti i nuovi quattro componenti del Consiglio del Coricom mentre il Presidente del Comitato sarà nominato dal Presidente della Regione in concerto con il Presidente del Consiglio regionale io vorrei ringraziare Enzo Brogi e tutto il Coricom per il grande lavoro svolto mi ero posto un impegno quello di fare in modo che il Consiglio regionale si aprisse sempre di più e i cittadini fossero i protagonisti delle scelte che mettevamo in campo grazie ad Enzo Brogi oggi possiamo dire che il Coricom ha voltato pagina, è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini tanti i progetti importanti penso alla Toscana che fa bene rivolta al mondo del volontariato alle buone pratiche di comunicazione oppure l'attenzione rivolta ai giovani ai social network a come si comunica oggi il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione una grande cultura perché è vero la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione e la legge regionale è approvata e il riconoscimento di questo grande lavoro mi auguro che il Coricom che verrà eletto nelle prossime ore possa procedere in continuità con l'ottimo lavoro portato avanti perché la Toscana ha bisogno sempre di più comunicazione libera e più c'è comunicazione e più c'è libertà e quindi grazie ancora a Enzo grazie ancora a tutti agli uffici per l'ottimo lavoro portato avanti io ho la barba bianca vengo da una generazione che si diceva si rinnova sempre nella continuità il segnale lo è oggi intitolando questa sala che è la sala dell'accoglienza al primo presidente del Coricom che era il professor Omar Calabresi semiologo, critico cinematografico, televisivo una grande persona che ha dato un impulso fortissimo al Coricom alle persone che vi hanno lavorato da lì siamo partiti cerchiamo di portare avanti e sono sicuro che chi ci seguirà saprà dare un contributo ancora maggiore Coricom è un acronimo complicato e che spesso induceva anche a confondersi con altre associazioni e poi siamo nati vent'anni fa quando ancora c'erano i telefoni a gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo quindi abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa, qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini, aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale la rete è straordinaria ci consente in ogni momento di comunicare con tutti di far sapere ogni cosa che noi facciamo ma arrivano anche continue insidie in questi giorni si registrano fatti gravissimi legati proprio a tutto quello che sta nel mondo sommerso della comunicazione e allora noi abbiamo provato con le nostre forze soprattutto in Toscana grazie alle università della Toscana all'Istituto degli Innocenti di offrire momenti di formazione per i genitori per gli insegnanti e soprattutto per i ragazzi proprio perché questo strumento sappia essere sempre di più un'opportunità e sempre di meno un'insidia Regione Toscana il Consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti